La tabacca è un'azienda agricola, ecologica e sociale che fin dall'inizio di progettazione ha valorizzato al massimo le risorse naturali al fine proprio dell'efficienza e dell'ottimizzazione. Questo vuol dire che è stata fatta un'analisi di tutto quello che poteva essere valorizzato e per creare dei sistemi energetici di recupero dell'acqua e dal punto di vista della produzione agricola che impattasse il meno possibile sull'ambiente. Ad oggi è un ecosistema costituito da una gestione dell'acqua con riciclo attraverso impianti di fitodepurazione, un'efficienza energetica con l'uso di pannelli solari e termosolari, una casa in bioedilizia e orti in agricoltura naturale a cui si fa molta attenzione a preservare la biodiversità e la fertilità del suolo.